La Cisla Brescia torna a manifestare davanti alla sede del governo di Palazzo Broletto, sotto accusa ancora la manovra economica voluta da Tremonti e ritenuta iniqua nei confronti dei lavoratori e dei pensionati. Una serie di iniziative volute a livello nazionale che mirano a modificare non il saldo della manovra ma le singole voci per ristabilire l'equità. Così come adesso il risanamento dei conti pesa soltanto sulle famiglie, sui lavoratori e sui pensionati, spiega Enzo Torri, segretario generale Cisla Brescia. Per il prefetto, pronto anche un documento di 27 pagine con tutte le proposte di modifica per dimostrare come sarebbe possibile intervenire sulla manovra senza cambiare l'importo ma ridistribuendo più equamente i sacrifici. Da una parte noi pensiamo che questa manovra, come ha detto il Presidente Napolitano, sia una manovra necessaria e anche nelle quantità. Quello che noi contestiamo di questa manovra è che cade ancora una volta parecchio sui lavoratori e pensionati, non sostiene una crescita, uno sviluppo di cui noi abbiamo bisogno perché qualsiasi manovra economica, se non c'è uno sviluppo o una crescita rischia di non avere effetto e perciò noi chiediamo al Governo di cambiare i contenuti di questa manovra nel segno di maggiore equità. Oggi mi sembra troppo squilibrata sui lavoratori dipendenti e pensionati e poco va a prendere a chi le ricchezze in realtà le detiene. Noi consegneremo un dossier al prefetto dove c'è la nostra analisi sui contenuti della manovra, le nostre osservazioni. Oggi questa iniziativa è una delle tante che abbiamo fatto e che continueremo a fare perché queste nostre iniziative su questa manovra che verrà adottata nel tempo avrà bisogno di avere una presenza costante nel tempo. Oggi è la terza iniziativa nei 15 giorni che noi facciamo, poi le prenderemo successivamente in tutte le sedi, in tutti i luoghi dove ci sarà la necessità di poter far valere la nostra posizione.